Case popolari, più di mille assegnazioni da luglio 2016. Un netto cambio di passo rispetto al passato per riportare legalità e trasparenza in difesa dei diritti delle famiglie in graduatoria da anni. Sono 18 i nuovi alloggi assegnati nella sola prima settimana di settembre. Operazione restyling per viale 20 miglia al Trullo. Partita la riqualificazione del viale centrale della storica borgata, i lavori si svilupperanno in cinque fasi partendo da via Colle e Valdelsa, tra gli interventi il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione e arredi urbani. Roma decide. Al via al bilancio partecipativo nell'ottavo municipio, si concluderà il 26 settembre la consultazione online sul sito di Roma Capitale per decidere come investire 17 milioni di euro e le opere da realizzare sul territorio. Si potrà scegliere tra 80 proposte, molte delle quali presentate dai cittadini.